No, era un modo di dire. Non abbiamo bisogno dei carabinieri. Ferma tutto! Scusa, ma lei chi è? Lei chi è? Tu, sono figo. Come figo? Tony figo. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Sono responsabile di un corpo speciale dei carabinieri. Che corpo? Il corpo di ballo. Ma non esiste. Non esiste. Ma dove vai? Non esiste il corpo di ballo dei carabinieri. Non avanzi. Non avanzi troppo. Non avanzi troppo. Non esiste il corpo di ballo dei carabinieri. Certo che esiste. Sentiamo, dove fanno i concorsi? A Broadway. Alla school bullet of the carabinieri. Ci dica perché ci ha interrotto che non ci servivano i carabinieri. Allora, Gianarrotto, per favore. Allora, qui c'è un sospettato. Ok? Allora, come si fa? Perfetto, signori, ma è in alto! Dobbiamo fare con gli italiani? Eh, sì, sì, quasi tutto. Perfetto così. Ok? Ok. Foto segnaletica, ok? Sì. Faccia a destra. Dall'altra parte. Faccia a sinistra. Di là? Poi! Così trova il sospettato. Lei, secondo me, è un cialtrone. Oh, sei un cialtrone. Oh, scusi. Allora, ancora qua. Ma che schifo fa? Che schifo fa? Allora, secondo me è un cialtrone. È un cialtrone e non siamo qui a cialtronare. Cosa sto facendo? Questo è un reato. Che reato è? Procurata commozione. Ma cosa fa? Inventa i reati? Ma che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che tu hai interrotto il pezzo di Ricky Martin. Adesso lui sta piangendo. Adesso Ricky Martin piange per colpa mia. Bene sì, anche i richi piangono. Ma allora, possiamo arrestare lui? Va bene, facciamo così. Chiamo rinforzi. Ma altra gente, chiama. Sì. Maresciallo? Ma non c'è... Sì. Questa sirena fa schifo, tra l'altro. Oh, oh, c'è il mare... C'è il mare... Il mare... Ah! Ex-Termi! Ex-Termi! Ah, ha fatto bene qua. Ex-Termi! Ah, ovviamente... Eh, scusi, lei è? Io sono gnocca. In che senso? Maresciallo gnocca. Urca! Ok, ok. Ho avuto paura. Va bene, Tony, per favore non arrestiamo Luca che non ha fatto niente. Brava, brava. Ehi, bambola! Ma la conosco? Ma mi sta provando che la sto con lei. Ma che cazzo fa? Ma cosa sta facendo? Non c'è un muro! Non c'è un muro, no. Non c'è un muro. Cosa sta facendo? Hola. Hola, Chico. Hola, Chico, como va? Ritmo pa' gozar. Eh, con una mano alla cinturra. Oh, pazito pa' delante. Pazito, pazito. Ma cosa sta dicendo? Suave, suavecito. Ma lei lo sa lo spagnolo. Sì, sì. Ed è spazito! Eh! È spazissimo! Allora, c'è un momento di follio. Ma perché parte la musica? Oh, oh! Ah, scoppiamo sta roba! Signor Figo! Oh, mi stava tirando. Allora, non è possibile che se continuate a ballare voi carabinieri non risolverete mai nulla, no? Esatto. Lei non deve ballare perché lei è un carabiniero e non sarà mai un ballerino. Ecco, si vergogni. No, non si intristisca. Non ci rimangamo. Ma perché lei ha servizio la colonna sonora? Lo posso capire? Tony, Tony, non fare così. Avete ragione. Eh? Avete ragione, Giobbi, Giobba. Ma che Giobbi e Giobba? Ma scusa, abbiamo un nome. Sono un disastro, no, no, no. Sì, sono un disastro. Sono un fallimento via l'altra. Sì. In realtà volevo diventare il nuovo Ricky Martin. Ah, beh. Mi ricordo ancora il giorno in cui dissi, padre, ascolta, io un giorno sarò il nuovo Ricky Martin. E lui cosa disse? Tu al massimo sarai un boffo, i righi e i poveri. Ma perché ride? Ma non ti ricorda, ma scusa. Allora, signor Figo! Oh, doni Figo! Allora, prima stiamo degenerando. Lei, 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 si calmi e ci dimostri di essere un vero carabiniere. Ok, tu dimostri che sei un vero barcaggiatore, ci puoi stare la macchina, ma? Lui lo sa fare quello, lo sa fare così. Allora, facciamo vedere come si fa una perquisizione. Giusto, masciallo. Ok, vi faccio capire come si fa, ok? Come si fa? Dimostrazione. Ok, gnocca. Male, c'è la gnocca! Sì, allora si diverte. Perché hanno uno che li segue? Male, c'è la gnocca! Possiamo fare questa perquisizione senza... Male, c'è la gnocca! Allora, in modo che nessuno si diverta, per favore. Allora, attenzione, attenzione che c'è la perquisizione, ragazzi. Avanti! Perfetto. Facciamo questa perquisizione? Ma non mi chaggia, vorrei di comprare. La facciamo il caffè, va! Allora, a questo punto bisogna avvicinarsi così, con una certa cattiveria, no? No, piano, però è bele. Quella è la cattiveria? Uh, what am I, sì o no? Stiamo tremando dalla cattiveria. Una volta che sei così vicini al sospettato, lei si dice... Così, sì? And in the time of my life... E questo si fa così vicini al sospettato, cosa sta facendo? Dammi la mano, baby! Un'altra cattiveria buona, yes! Oh, va che perquisizione! Ma non è questa cosa! Ma cosa è questa roba? Ah! Allora, va! Ma perché mi prendo sempre il culo di lui? Fammi controllare bene! Allora, vai! Quando finisce la cattronata! Ah, va! Ma non è così la perquisizione di lui? Sì, è esatto, sì! Vieni, facciamo gli occhi noi!